Qual è il filo conduttore? Intanto quest'anno di nuovo animeremo le nostre serate estive insieme a tanti altri avvenimenti con il filo conduttore e sempre un filone ligure genovese perché di fatti iniziamo con un rap in puro genovese e continueremo ancora anche la domenica 21 con un ricordo di Natalino Otto che evidentemente tanti non conosceranno ma è genovese, nasce a Cogoleto il quale ha fatto anche tante belle canzoni in genovese ci sarà una Valeria Buzzone che abbiamo conosciuto insieme a Testa che è stato premiato tra l'altro come artista al premio Turio Coppello che è un chitarrista e poi la grande conclusione sarà il 5 agosto con proprio la musica genovese, con i cantautori genovesi e qui ci sarà da sbizarirsi, ci sarà Beppe Mistretta, Culotta che so che è un personaggio molto quotato nell'ambito genovese quindi insomma una rassegna che pesca nelle nostre radici come è vostra tradizione e che si rinnova grazie alla collaborazione alla rete sul territorio esatto, noi abbiamo di fatti dicevo prima nella conferenza stampa che facciamo questo anno scolastico tra virgolette di cultura genovese dove tocchiamo tutti gli argomenti riguardanti il nostro territorio e la Liguria, non so, dall'artigianato abbiamo parlato della sedia di Chiavari dalla salvaguardia di monumenti importanti come il santuario delle Grazie si è parlato delle radici, dell'immigrazione nel Sud America cioè tutte anedoti molto interessanti anche quello degli offessieux, mi ricordo, quello dei sciuette delle suole di clausura di varie serie cioè tutte delle piccole emergenze culturali molto importanti che rischiano di andare perse e bisogna tenere questa memoria che è un'eredità importantissima